Raga è arrivato il momento, abbiamo Scamdos, abbiamo Scam, c'è Scam su Arena, c'è, eccolo! Aspetta però inizio per secondo, ho perso. Cosa? Non c'è Bananero? Cosa? Cosa? Bro! Devo andare in full control, vero? Piccio lo sciamano, mi sa. Tra queste carte che ho in mano riesco a picciarmi lo sciamano. E niente, primo turno della prima partita. Io direi... Gli togliamo presi in borro per Resplodent Seas? Eh, li togliamo presi in borro per Brainstorm? Ah, è vero, sì, è certo. Vabbè, con il mono blu tappo, sì, il safrono lì. Direi che tolgo Pranza. Tra l'altro è un mazzo forte questo contro Orchetti. Sì, lo so che Branza è forte perché gli faccio Orchetti e gli spacco la roba, però comunque vede tre carte, ragazzi. C'ha la paura di spavento. Cosa chiamo? E lo spacco o butto Orchetti? Orchetti vorrei fargli una risposta a cose. Il ponce è un caffè corretto con l'alcol. Oppure poi è diventato altra roba. Quindi ora si è furbo o pesca? Adesso. Il manadre. Vabbè, questi cazzi. Scusate, io non capisco che effetto ha. Ah, c'ha la Ring Forest. Ma se faccio Bow Masters ora, perché così non può counterarmelo? Che è anche meglio. O con l'Appsota mio e vaffanculo. Però è il discorso... No, questo io devo fare risposta alla prima pescata, così non può farselo flippare perché muore. Semplicemente. Però con tutto sto mana mangerà un clue. E mangiadillo. Oh, qui lo sparo comunque su Tamio. Perché così non può pescare le tre carte che gli servono per flipparlo. E basta, l'ha fermata. Esatto. Allora. Io ho già le mie prime considerazioni. Mi sa che siamo già al punto dove non ha senso non giocare scam. A vedere sta roba qua, ve lo dico. Malone. Vediamo se faccio lo scam di primo di nuovo. E' mulligan. E' un mulligan. Non faccio niente di troppo forte a turno 1. Era meglio prima. E ora basta, Kippo. Kippo e faccio fable e tengo orchetti. Tengo l'UTR. Fino a 5 cerchi la scammata, dai. Però c'ho 8 sari animator. E qui tengo sciamano, tozza animator e tolgo bolt e fable. Oppure faccio adattare sciamano e fable. Tolgo bolt. Bolt si tenga. Bolt si leva di sicuro. Grazie al cazzo che a sto punto andava tenuto la prima. E se la mia nonna c'ava le rote. Anzi, se la mia nonna c'ava le ali, in realtà è mi bronco. Volevo provare a fare il fenomeno. Non. Beh Vado a tre Volentieri Il nulla Umana Attenzione Asso Ehi Non ha danni diretti Mai Posso andare a due Mi tolgo le terre del mazzo Faccio surveil E' febole E' una buona carta Di me Comunque togli Le prime 20 Borda E mi ha finito il mazzo Sono i hat dovuto a un bug Certo ho vinto Ho finito il mazzo Eh questo è E' già automaticamente Il mazzo più forte E poi esiste le sue arena Ragazzi Non Non c'è Che cazzo di Che gli dici Abbiamo fatto due cose Vomitevoli Partita di prima E partita di adesso E' legacy E' legacy E' legacy Anzi è legacy Questo Questo è l'unico Veromazzo In timeless Che ha Veramente La forza Del legacy Piena Tutta Carta per carta Ed è un concetto L'unica cosa Che viene in mente Potrebbe essere Appunto Orzo Ejectorrans Ha visto Ci siamo trovati Siamo sette a giocare Mutato Veloce Che bolla Counter a scam Perché dice Counter a tutto ciò Che costa zero Che non viene pagato Umana Che costa zero E' più forte Scam 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 All go Fable Ma Scam Contro scam Vince Chi parte primo Quindi O no Vinco io Ma soprattutto Domanda Ma faccio il 3-3 Doppio attacco Di primo O aspetto il turno dopo Perché giocherà Qualcos'altro E glielo spacco Io lo faccio Sì sto pensando Che se c'ha Se c'ha lo scam Lui non l'ha visto Se puoi scammare Scammi Vabbè Infatti io Push Push fa quasi cacare Ora Push fa cacare Se il meta è questo Push Di side Solo di side Bolt E Vabbè Vabbè Gli salgo Griff Sperando di rianimarla Io Ragazzi ci provo A mettere un tapp Ma tanto non funge Ve lo dico Eccoci qua È finita È finita Scam è questo Occomats Lo faccio ora Eh chiaramente non funziona Però magari almeno quelle vecchie le vedete E niente Scamma contro scamma e vince di scamma prima E qui ci siamo Che u Finita E' già finita Te lo faccio fare Lo obbligo a farne uno 8 euro 4 per canto di orange Ci può stare assolutamente Full art fighe No ma ha fatto griff prima Fine Stavate che è carino Qui lo fai se No Non rischi Stai vincendo Perché far cazzate Bronco Good game Bene Mono black scam L'ho già C'era solo griff Ci sta Ci sta Bisogna 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 vedere come Come si Ecco belle le partite così Benvenuto in magic Benvenuto in magic the gathering Dal modern in giù Bello grist Flooded Io ogni volta che vedo una fetch senza nero Sono contento Oh no Oh no Oh no Oh no Che è successo Si è fatto il danno Comunque il full control lo metto Mi sa che tolgo ditto Che speccia prima se mi fa stifle Non ha un cazzo Non ha niente Ah è il combo È il combo Combo energie Che le carte sono sclorite Che hanno sbagliato qualcosa nel codice Gioco partita incontro Ok 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 C'è mano Bot Ma un bel mazzo Allora È 20 minuti che sto facendo Per star early access Avete intenzione di dirmi Ma questo mazzo qui Ogni due Dovrò giocare delle cose Dovrò giocare qualcosa Per più di mezz'ora Ok Non iniziamo eh Ma questo mazzo qui Se mi vedete giocarlo Vuol dire che lo sto giocando Allora Allora No a me piace Vomastro Anche perché glielo tiro subito Sto se mi sto sul cazzo Ma a parte separa A me Griffo è il suo l'ha fatto Separa io gli spacco in keep Anzi no È little così Aspetta No Non è little Sì è little È little Aspetta è little È little È little È little È little È little Noi stiamo giocando a magic Loro stanno giocando a Barretto Noi stiamo giocando a A top 8 Legacy Torneo E loro stanno giocando A Barretto La differenza è questa È proprio un altro Cioè avete visto Cioè l'unica partita Che abbiamo perso È perché Griff Ci hanno fatto Griff Prima di noi Fine Mazzo Legacy Senza Senza doppie Sì Questa è esattamente La lista Legacy Esattamente La lista Legacy Solo che non abbiamo Badlands E Doughty Voidwalker Però Così Il fatto è che Questa cosa È facilmente Counterabile Cioè Questo è il Ho vinto Questo è il meta Bene Turno 1 Vex in Bubble Basta A posto L'avversario Non può più farti niente Oddio Ecco The Edge Grist Colctonian Nightmare Vabbè Non è un problema Mi scarto Il troll O mi scarto Lo sciamano O mi scarto L'altra Griff Addirittura Come mi scarto L'altra Griff Ma ho bisogno Ho bisogno di due Griff Eh ma me lo esilio Il troll Dove è l'altra Griff Dove è l'altra Griff Sì Lo liacce C'hai i cani C'hai i cani Tieni i cani Tieni i cani Le madri Cacava dentro Il puzzo Cacava dentro Comunque Allora io vengo Dal non essere Giocatore di Modern Ok Che dici Hanno bannato Fury Perché Griff No Ma è Griff Il problema Gioiamo Gioiamo Quanto serve un cazzo Però Griff Non ti ammazza Sì Beh Griff Tipo Questa Questa board Non la risolve Fury Sì Poi abbiamo Un planeswalker A1 Potevi tenere Ragavan come pitch Per Fury La casto Fury Aspetta Aspetta Fai vedere Se tratta qualcosa Aspetta Allora Allora il problema è che Fyndartisan se lo buffa Stavo dicendo spacco solo cani e token Perché tanto Fyndartisan in risposta se lo buffa e fa qualcos'altro Ha concesso EGG Allora effettivamente sì Il ban di Fury forse è meglio del ban di Griff Perché comunque Vratta one sided E io c'ho un 3-3 a doppio attacco Male non fa Per Nether Goif serve bolla E per bolla non c'è spazio Molto semplicemente Rimatch Beh ho reanimate No c'ho anche la terra senza fetch Ip Zero on the play Ok sì tutto andato Magic Lo fa Magic It does it Push Ok Bello è sti artwork però eh Porca puttana È un combo Io questo vorrei farlo giocare Perché voglio vedere il Prime al combo Come l'ha fatto Potrei voler fare Sì Allora togliere Fury ha poco senso Perché sai che la rianimo Quindi Io togli Fable Io togli Fable 100-100 dai Chiaramente Fable Infatti lui sa che deve mandarmi un pezzo a morire da Bolt Buono Ottima pescata questa Sepolto Wee Narcomeaba Amalgama Amalgama La maiala Grifo O Tozza io Ok vediamo cosa sta per fare Rischioso sto mazzo però Corriani mette in giro Magari intanto ha fatto Sapolto vivo ma non c'è Ah è vero muore Se fa rianimate LOL Ragazzi muore Se rianima Ulamog Erast 10 Eh lo scoppiavo Ragazzi Ah io meno qui Io madonna Bitter Trionfo Sull'1-1 Un flint on capo Channel in 2 La mog tv Vabbè ci sta Anche questa è una scammata gigante Madonna quanta Mamma mia Quanta sporcizia Si può fare In questo caso Però Fermi Sto iniziando a cambiare idea Se tutto è rotto Niente è rotto Eh Se tutto è rotto È tutto rotto E quindi sei È pari la roba Vince Vince chi Chi si giostra meglio Le risorse O chi gli gira meglio Il mazzo Semplicemente Vabbè Ma non le dice Dovresti giocare Più carte nuove Eh Sto giocando Il mazzo Che tutti Volevano Vedere Che usciva Quindi Dopo si va In storica Si giova Le mie mazze Prima va fatto Questo Per forza Ma comunque La risposta è questa Attenzione Siamo contro C'è Torrance Ma non lo commenterà io Perché lo commenterà Johnny Dolly Benvenuti In questa nuova puntata Siamo qui a giocare Il magic La Dunanzo E siamo Ie Contro Jock Terrence Jock Terrence Sapete che è Fortissimo Animatore Di la magia E sapete anche Che è Molto Ragazzi Fury Di Picciare Fury Ciao Shaman Vediamo subito Che abbiamo in mano La scammara La scammara Che sapete Viene dal termine In inglese Scam Che vuol dire Turufa E turufa Vuol dire Che io Guadagnare Dei soli Mentre tu hai perso Dei soli Ma tu eri convinto Di guadagnare Dei soli Ma in realtà Guadagnare Dei soli E quindi Tu hai perso Perché sei un incapaccio Se sei un incapaccio Non sai Vedere le cose Come stanno Quindi se vieni Scammaro Come diceva Vanna March Diceva Se sei Coglioni Devi essere Cullare E noi Siamo Coglioni Siamo Cullare Vediamo Se adesso Facciamo Scammare Faremo Scammare E faremo Anche Sub Faremo Scammare Facciamo Fury Che sapete Vuol dire Incazzo Scammiamo Il fiuro Scende il fiuro Non succede Niente Purtroppo Non ci sono Nienti Da sporare Facciamo Non sono morto Proprio Per nienti E torna L'avversario Deve avere Ditto Di Shibobby Se non C'hai Ditto Dici Bobby Mi Dispiaci Magic Lorenzo E' pronto Per passare Bruttissimo Quarto D'ore Ma forse Neanche Quarto D'ore Stiamo Parlando Di Sei Minuti Sei Minuti Che sapete Anche La durata Media Di Rapporto Sessuale Compreso Pompine Sigarrera Attenzione Sta toccando Il fiuro E sapete Che quando Qualcuno Mi tocca Il fiuro Divento Impazzito Perché Io sono Johnny Totter In diretta Da Cerignola Provincia Di Illinois Dove Qui Fanno Una Buonissima Pasta Patate Cozze E Questo Fa un'altro Tozza Attenzione Ci lasci Senza Nienti Ma abbiamo In campo La furia Degli Dei Attenzione Terra Cerca Una terra Con un'altra Terra Che si dice Fetchare Che viene Dall'inglese To fetch Che vuol dire Affaccio Lugaz Per attaccare Con l'attacco Di la Fury Della furia Attacco 9 danni 8 danni Sono tantissimi Perché Sono Johnny Totter In diretta Per voi Soltanto Per voi Da Napoli Provincia Di New York Dove Sapete Che fanno Una Buonissima Pastiera New Yorkese Pastiera New Yorkese Ovviamente A base Di Pepperoni Come dice Il mio amico Roccurado Guzzanti Conosciuto Anche come Il Conte Teniamo In cima Bolto Perché Sappiamo Benissime Che Avversario Nostro Può Avere Un sacco Di Cosi Ma Soprattutto Se Non Abbiamo Niente In Mano Non Può Scammare E Se Pensa Di Fare Lo Scammaro Di Grifo Non Può Perché Non Abbiamo Niente In Passo Perché Io Sono Johnny Totteri In Diretta Per Voi Da Trapani Provincia Di Los Angeles E Adesso Con Questo Bronco Vediamo Se Fa Qualcos' Altre Perché Altrimenti In Cima Abbiamo Proprio La Risposta Che Il Fulminau Perché Il Fulminau Non Succede Later Non Succede Before Succede Now Perché Stiamo Per Pescarlo Voi Non Lo Vedete Perché Esattamente Sotto Il Scrodo Ma Vi Assicuro Che In Cima Al Mazzo C'è Un Fulminau Che Sta Per Arrivare Ora Now Appena Jock Terrence Smette Di Pensare Attenzione Delvo Cosa Non Ce L'Aspettava Mesemelo E Allora Comunque Siamo Costretti A Togliere Bronco Anzi Addirittura No Probabilmente Passiamo Perché Adesso Abbiamo L'Ital E Manag Abbiamo Tre Danni Di Fulminau Più Due Danni Di Sciamano Ora Più Due Danni Di Sciamano Dopo Vediamo Se Jock Terrence In Questo Momento In Diretta Ovviamente Da Attenzione Vediamo Se Magari Attacca Col Bronco Subisce Del Danno E Muori Attenzione Attacca Col Bronco Attenzione Sta per Attaccare Col Serpento Con Le Ale Sta Per Attaccare Col Serpento Con Le Ale Si Pensa Capisci Capisci Che In cima Al Mario Cioè Abbiamo Il Danno E Allora Probabilmente Adesso Ci Rimembrerà Anche Le Cose Di Sciam Mario Perché Se Non ci Uccide Sciam Mario Attenzione Aspettiamo Ma andiamo Subito A Uno No Aspettiamo Facciamo Risolvere Risposta Adesso Non può Non Fare Nienti Perché Noi Adesso Perché Se Avessi Fatto Il Fulmino Avrebbe Potuto Rispondere Sciam Ma Non Ci Piace Quando Dopo Vince Il Partito A Uno Perché Deve Arrivare Sotto I Tre Per Morire Di Lightning Bolt Detto Anche Fulmino Questo Era Tutto Per La Partita Contro Jock Terence Da Johnny Totteri In Diretta Per Voi Da Caltanissetta Provincia Di Minneapolis Torniamo In studio Appuntamento Alla Prossima